Quando c'è una strage così, si fa una ferita nella comunità, come se fosse uno spirito. Quando si cerca di guarire questa ferita, è una cosa che si deve guarire anche in comunità. Per quello ogni persona e tutte le persone anche, e poi è un portale che si deve attraversare per lasciare indietro questo dolore. Sono arrivati da tutto il mondo e dallo scorso 25 maggio hanno lavorato, scarpelli e moda alla mano, allo Stadio Comunale per il Simposio Internazionale di Scultura Monumentale, nell'ambito dell'ottantesimo anniversario dell'Eccidio nazifascista del 29 giugno 1944. Non solo a ricordare e commemorare la morte di queste cidi, ma anche di dare una visione per un mondo migliore attraverso tutta un'evocazione che ognuno ha interpretato in modo diverso, perché sono tra l'altro tre continenti che sono abbastanza distanti da noi. La mia opera ha a vero con la dualità, con una società contemporanea molto comoda, referente a una società che sta in costante conflitto di guerra e di malestar. Sono tutti progetti che si legano prevalentemente alla natura, cioè il rapporto della rinascita, il rapporto dell'inseminazione e anche, ad esempio, la mia, che sono due spirali, sono il DNA, cioè quello di cambiare all'umanità questo modo di pensare e di vivere attraverso sempre l'esistenza di distruggere e poi ricrescere senza rendersi conto di quello del danno che si crea. Adesso le 11 opere, 8 sculture in pietra e 3 in metallo di circa 3 metri di altezza sul tema della memoria, sono concluse e sono state consegnate alla cittadinanza, saranno installate nelle principali piazze delle frazioni del territorio comunale per ricordare le vittime dell'Eccidio. Perché la memoria, quello che è successo a Civitella, non è un qualcosa che riguarda strettamente il paese, la frazione Civitella, ma riguarda tutto il nostro comune. Intanto il Borgo si prepara alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario dell'Eccidio, uno dei massacri più efferati tra Civitella, Corni e San Pancrazio, 244 le vittime civili. Le 29 inaugureremo inoltre Civitella, oltre alle celebrazioni classiche, ci sarà anche quella che è l'inaugurazione di una mostra fotografica internazionale dell'artista Luigi Toscano, artista dell'UNESCO per la pace del 2020, una mostra che si chiama Contro l'oblio, che per la prima volta sarà esposta in Italia.